buonasera eccoci online sul canale youtube di humanitas mater domini scusate l'attesa ma volevamo essere perfetti per voi perché sono in compagnia con il dottore da luigi taverna responsabile urologia del nostro ospedale buonasera ancora dottore con lei oggi parleremo sfateremo i falsi miti legati al tumore della prostata però se mi concede un attimo prima vorrei ricordare perché siamo qui oggi in occasione della festa del papà gruppo humanitas quindi ospedali e centri medici humanitas sono a vostra disposizione con iniziative dedicate alla prevenzione del tumore della prostata con consulti e visite gratuite fino al 21 marzo queste iniziative fanno parte dottore del progetto blue one di fondazione humanitas per la ricerca dedicato appunto al tumore della prostata e a quella che la prevenzione della salute maschile prima di iniziare vorrei fare un attimo una contestualizzazione della situazione ad oggi in italia sono circa 564 mila le persone con una pregressa diagnosi ogni anno invece si contano circa 36 mila nuove diagnosi di tumore alla prostata qual è la conoscenza che oggi hanno gli uomini della propria salute e del tumore della prostata dottore ma allora oggi a mio modo di vedere le cose vanno molto meglio rispetto a qualche decennio fa per l'uomo anche chi per chi non è un addetto ai lavori la prevenzione incomincia ad essere importante questo ce ne rendiamo conto sostanzialmente dalle visite ambulatoriali e delle richieste che abbiamo per cui credo che piano piano rispetto a qualche anno fa le cose stiano migliorando si è partiti con la donna e adesso si arriva con l'uomo infatti se la donna ha sicuramente una maggior consapevolezza mi fa piacere sapere che pian piano anche gli uomini la stanno accusendo assolutamente però per farlo acquisire sempre di più ecco perché l'evento di questa sera facciamo qualche fattumito legato proprio alla patologia e iniziamo subito con il primo la salute della prostata è un problema esclusivamente dell'anziano è falso sicuramente ma perché? e questo è falso ma la prostata che è una ghiandola che abbiamo che hanno gli uomini sotto la vescica tende progressivamente a modificarsi dalla pubertà in poi e può dare principalmente due tipi di problemi i problemi legati al suo sviluppo benigno cioè al suo ingrandimento i problemi legati allo sviluppo di un tumore esistono poi dei soggetti che hanno delle caratteristiche anatomiche particolari cioè l'imbuto prostatico cioè quella zona che si dovrebbe aprire quando avviene l'atto minzionale non si apre correttamente per cui mima dei disturbi prostatici anche nei giovani quindi diciamo è vero che i problemi prostatici aumentano statisticamente all'aumentare dell'età però questo non è assolutamente detto ci sono anche dei soggetti giovani che hanno disturbi e ci sono dei soggetti giovani che meritano attenzione questo per quanto riguarda i disturbi di ipotrofia prostatica benigna cioè dello sviluppo della prostata per quanto riguarda il tumore non esiste un'età assoluta alla quale fa riferimento per farsi controllare se non in un sottogruppo di pazienti che sono quelli che hanno una familiarità positiva per tumore prostatico cioè quello che è noto è che il tumore della prostata ha un importante componente familiare genetica per cui chi ha un familiare il genitore uno zio un cugino stretto affetto da tumore prostatico dovrebbe iniziare a fare i controlli preventivi intorno ai 40 anni ok chi non ha familiarità invece da che età dottore non esiste come diceva un'età precisa però diciamo intorno ai 50 anni ok 40 anni in caso di familiarità 50 anni in poi tre fattori di rischio quindi la familiarità infatti una delle fake news che gira che la familiarità non sia un fattore di rischio invece abbiamo accertato che lo sia quali sono gli altri fattori di rischio allora mi permetto di tornare un attimo indietro la familiarità è molto importante per il tumore della prostata esistono poi dei sottogruppi di soggetti che hanno familiarità anche all'interno di donne con tumore della mammella ok quindi c'è una correlazione per cui esistono adesso degli esami del sangue genetici che consentono di individuare questo rischio questo sottogruppo di rischio per cui familiarità maschine tumore della prostata familiarità femminile tumore della mammella ma questo è quello che si sa oggi scusi se l'interrompo nel caso avessi una mamma una sorella con questa patologia è meglio fare un controllo è possibile è possibile farsi controllare esiste un test diagnostico in grado di farlo che poi non vuol dire sviluppare la malattia vuol dire semplicemente avere un rischio superiore rispetto alla popolazione che non ha queste caratteristiche teniamoci semplicemente un pochino più controllati altri fattori di rischio noti sono legati all'assunzione eccessiva di proteine animali all'interno della dieta o di formaggi grassi diciamo che per gli italiani questo problema per gli europei in generale questo problema non si pone si pone molto in america ad esempio dove l'assunzione di carne eccessiva eccessiva questi due fattori sono oggi quelli più certi quindi fattori di rischio familiarità dieta e le chiedo sedentarietà la sedentarietà fa male a tutto nel senso che bisogna muoversi però per quanto riguarda proprio lo sviluppo del tumore prostatico i dati a nostra disposizione sono ancora molto controversi c'è qualcuno che ha evidenziato una correlazione tra lo sviluppo di tumore e un eccessivo peso corporeo altri invece non hanno verificato questo dato comunque la sedentarietà è un problema è un problema che per noi insomma per le riguarda la salute un pochino più in generale quindi facciamo sicuramente sport ma le ho fatto proprio questa domanda perché esiste un falso luto in merito cioè andare in bicicletta fa male alla prostata falso questo è proprio falso come il peperoncino fa male alla prostata no non è vero allora bisogna stare attenti ad esempio i ciclisti amatoriali anche che fanno molti chilometri d'estate devono idratarsi molto bene perché c'è il rischio di un'infiammazione da seduta quindi le prostatite acute che sono delle inciammazioni acute della prostata vengono più spesso d'estate nei soggetti che fanno ciclismo perché sono disidratati però è solo fermarsi qualche volta in più a fare la pipì è vero poi di più perfetto allora adesso le volevo mi aggancio a quello che dicevamo prima proprio sui controlli un altro falso mito ci dice che non c'è ragione di sottoporsi a controlli annuali se non ci sono sintomi no questo no allora bisogna distinguere bene che cosa vuol dire prevenzione la prevenzione vuol dire fare degli esami e delle visite in perfetta salute quindi per quanto riguarda la prevenzione tumorale mediamente i soggetti che arrivano a fare prevenzione sono in perfetta salute però per quanto riguarda la prostata delle indagini possono poi mettere in evidenza un problema proprio perché le persone con tumore della prostata nel 90 per cento dei casi sono sintomatiche assolutamente sì questo perché noi abbiamo a disposizione un marcatore che si chiama psa e l'antigene prostatico specifico questa è una proteina che viene sviluppata all'interno delle cellule prostatiche in benessere normalmente lei viene eliminata nel seme e il test che viene fatto ad esempio in casi di medicina legale quando vi è un danno cellulare il psa può rientrare nel sangue quindi noi troviamo elevati valori di psa all'interno del sangue questo è un campanello d'allarme per una eventuale patologia trasparente bisogna però specificare che esistono milioni di persone che hanno il psa fuori dalla norma ma non hanno nessun tipo di malattia come esistono dei soggetti che hanno un psa normalissimo e invece stanno sviluppando un tumore infatti tra i falsimiti è che un psa alto vuol dire tumore della prostata come mi ha detto che sia basso che sia alto è un indice predittivo però non dà certezza quindi non ci allarbiamo e rivolgiamoci sempre all'urologo di fisica assolutamente sì e invece abbiamo parlato di asintomatici nel caso di sintomi arriviamo in un punto in cui si manifestano tutti i sintomi quali possono essere allora bisogna distinguere anche qui se abbiamo un'ipertrofia prostatica cioè se la nostra prostata progressivamente o si rigidisce o cresce che sono sintomi di due tipi principalmente quelli di carattere ostruttivo cioè il getto diventa più scarso si fa si fa fatica a urinare si fa la pipì la minzione in più tempi questi sono abbastanza caratteristici lo sgocciolamento postminzionale oppure ci sono sintomi irritativi cioè la vescica risponde a questo stimolo prostatico in modo errato in pratica non riusciamo più a trattenere la minzione e poi ci sono soggetti che hanno entrambi questi disturbi questi per quanto riguarda la prostata benigna per quanto riguarda la prostata maligna pochissimi sviluppano tumori oggi perché quasi tutti si fanno controllare arrivano prima però mediamente possono essere sintomi locali quindi ostruttivi di blocco della zona in qualche caso anche legati direttamente alle metastasi che il tumore sviluppa molto dura blocca la vescica ok quindi blocca la vescica e può bloccare anche i reni ok raro ma accade in altri casi il sintomo può essere legato a dolori ossei per le metastasi ossei quindi vuol dire che siamo già in una fase molto avanzata ecco perché l'importanza di controllarsi prima che questo accada esattamente mi ricordo semplicemente l'età 40 anni in caso di familiarità 45 ogni 45 50 non c'è non c'è un anno preciso diciamo la tendenza mondiale è quella ok e abbiamo parlato che dopo i 45 50 anni aumenta la prevalenza di tumore della prostata all'interno della popolazione se lei ha un soggetto su mille a 50 anni arriva 1 su 2 a 90 anni ok perché la prostata comunque come altri organi progressivamente tende a ammalarsi ma oltre una certa età i tumori perdono di importanza clinica se non in casi selezionati ok ok quindi abbiamo parlato di visita esplorazione rettale l'esame cardine cardine esame del psa nel caso ci fosse un sospetto quali sono gli altri approfondimenti diagnostici allora oggi le linee guida nazionali e internazionali prevedono che venga fatta una risonanza magnetica multiparametrica si dice che vuol dire vuol dire la risonanza magnetica è uno strumento radiologico differente dalla tac ma diciamo concettualmente evidenzia proprio tutta l'anatomia umana è del tutto a traumatico e che mette in luce diversi aspetti della prostata è come se facesse una fotografia oggi la più accurata possibile della prostata questa può essere molto utile se totalmente negativa cioè se la risonanza magnetica arriva un uomo ha un psa elevato una visita normale ma fa una risonanza e questa è del tutto negativa quindi abbiamo un'immagine pulita non vede cose strane questa ci dà una grande tranquillità dal punto di vista del percorso del paziente nel caso in cui evidenzi delle zone strane o francamente alterate questo è utile perché la successiva biopsia prostatica necessaria viene fatta in modo mirato si chiama fusion biopsia faccio un attimo un passo indietro perché la biopsia è il prelevamento di una piccola parte della ghiandola prostatica che viene mandato ad analizzare è un esame che viene fatto ambulatoriamente si fa un'anestesia locale come dal dentista è un esame che dura mediamente cinque minuti vengono presi dei piccoli pezzettini si chiamano frustoli o carotine di un millimetro di prostata che vengono poi analizzati dalla nato un patologo per vedere nel contenuto la fusion biopsia dopo la risonanza magnetica consente di avere un mirino perché la fusione avviene tra la risonanza magnetica e l'ecografia che sono due strumenti diversi ok quello che vede la risonanza non lo vede l'ecografia ma la macchina sovrappone le immagini per cui ti dice in alto a destra devi andare a pungere quella zona e tu grazie a questa macchina riesci a farlo e sei più accurato quindi maggior precisione immagino anche minor dolore proprio perché la persona subisce quello che è un prelevamento mirato sì il dolore come tutti gli esami sostanzialmente fastidiosi lo sono gli esami medici però rispetto adesso si fa l'anestesia locale da molti anni e questo ha ridotto di molto l'impatto per il paziente ok quindi è sicuramente un esame che si può affrontare molto facilmente passiamo dalla diagnosi un attimo al percorso di cura perché in Humanitas Mater Domini l'ospedale ha appena ricevuto il bollino azzurro quindi questo riconoscimento nazionale che certifica il fatto che l'ospedale abbia un percorso di cura multidisciplinare quindi dottore le chiedo qual è l'importanza di un percorso di cura completo in cui il paziente si è affiancato sia dalla diagnosi che nella cura che nel follow up allora è fondamentale perché questo un po' in tutti gli ambiti medici soprattutto quelli oncologici si è capito sostanzialmente che le diverse figure professionali che in questo caso sono l'urologo, l'oncologo, il fisioterapista, il radioterapista, l'endocrinologo che hanno a che fare con il paziente e hanno punti di vista e strategie che possono essere correlate per aiutare tutti i singoli casi quindi questo è molto importante perché qualora vi sia un tumore della prostata le opzioni terapeutiche sono moltissime sono diverse, il tumore della prostata anche in questo caso come molti tumori è molto variegato dal punto di vista dell'aggressività per cui noi abbiamo sostanzialmente tre sottogruppi di pazienti il primo paziente è affetto da tumore a basso rischio, basso o bassissimo rischio cosa vuol dire? vuol dire che è un tipo di degenerazione tumorale che ha un bassissimo rischio, un basso rischio di svilupparsi nel tempo ok quindi questo ci consente di poter fare tutta la vita o un percorso lungo della vita non facendo nessun tipo di terapia si chiama sorveglianza attiva giusto? si chiama vigile osservazione o sorveglianza attiva per il quale una persona deve essere controllata periodicamente esatto, la persona viene controllata periodicamente qualora vi sia qualche parametro che non rientra più nella norma allora lì si decide eventualmente di passare a un qualcosa di terapeutico oggi la sorveglianza attiva viene praticamente applicata a tutti i pazienti che hanno una malattia a basso o bassissimo rischio se non in casi selezionati poi per quanto riguarda invece l'intermedio o l'alto rischio anche qui esistono diverse opportunità terapeutiche che vanno dalla chirurgia, cioè l'asportazione della prostata nel quale parleremo tra pochissimo alla radioterapia, alla terapia focale oppure alle terapie mediche che vanno dalla terapia ormonale inizialmente a chemioterapia o immunoterapia in via di sviluppo ne vediamo una a una, va bene dottore iniziamo con la terapia focale cosa vuol dire? terapia focale vuol dire questo noi sappiamo che il tumore della prostata coinvolge la prostata otto volte su dieci in modo plurifocale bilaterale cioè vuol dire che se noi consideriamo che la prostata è come un'albicocca coinvolge più punti in varie sedi della provoca ma esistono dei casi nei quali lo sviluppo tumorale è presente apparentemente solo in una parte o a destra o a sinistra in questo caso sono in corso dei protocolli di ricerca che prevedono la distruzione di quella parte della prostata cioè di metà prostata con un'energia che può essere un'energia a caldo attraverso delle onde o un'energia a freddo ma sostanzialmente viene distrutta quella zona di prostata il problema che abbiamo oggi è che il paziente deve poi seguire un percorso di controlli molto stretto per avere la certezza o quantomeno per sospettare l'eventuale sviluppo di malattia anche dall'altra parte e questo controllo come avviene? sempre con il PSA? allora avviene in diverso modo perché i protocolli di ricerca prevedono diversi controlli avviene attraverso l'esecuzione frequente del PSA di ribiopsie della zona non trattata di risonanza magnetica e eventualmente di PET ok, cosa usa la PET? la PET è un'altra indagine radiografica che utilizza degli zuccheri marcati adesso viene utilizzato il PSMA che viene sostanzialmente iniettato nel sangue poi si fanno delle lastre del soggetto e il sangue si va a accumulare dove ci sono delle cellule tumorali quindi scusi la curiosità è per capire il PSNMA, giusto? è zucchero? si, sono delle molecole che vengono praticamente iniettate è un mezzo di contrasto specifico non esistono di vari tipi a seconda del tipo di malattia per la prostata si usa o la colina o il PSMA e queste sono più o meno accurate il più accurato attualmente è il PSMA va a localizzarsi dove ci sono le cellule tumorali quindi dà evidenza di quello che è il problema esatto e quindi è importante perché ti dice ad esempio è nella prostata destra oppure è in un linfonodo eccetera eccetera ok invece poi abbiamo tra i trattamenti la radioterapia oppure c'è la radioterapia la radioterapia esiste in due forme quella più nota è la radioterapia a fasce esterni cioè c'è un lettino vi è una serie di puntatori e di fasci radiologici che vanno in modo molto selettivo a distruggere l'organo o la zona dell'organo che il radioterapista mira in questo caso la prostata esistono diversi schemi di radioterapia che vanno dai 7 ai 40 giorni qui hai il radioterapista che decide a seconda del caso e dell'utilità il vantaggio è che tutti i giorni il paziente va 5 minuti nel centro di radioterapia e torna a casa proprio esiste poi un altro tipo di radioterapia che si chiama brachiterapia cioè si introducono dei semi radiattivi in anestesia all'interno della prostata e questi semi radiattivi progressivamente distruggono annientano il tumore alla prostata la brachiterapia nasce molti anni fa in America e si è sviluppata molto in America meno da noi perché in America gli spazi sono molto grandi e non ci sono tanti centri di radioterapia a fasce esterni per la popolazione quindi era più comodo a un paziente che abitava in un distretto secondario andare in un grande centro stare tre giorni lì e poi tornare a casa in Europa e in Italia soprattutto si è diffusa meno perché noi abbiamo la fortuna di avere molti centri di radioterapia siamo più vicini alle persone esatto e quindi sostanzialmente insomma ha più senso andare a fare una radioterapia focale per comodità non per risultato infatti una domanda dottore radioterapia e chemioterapia? no sono due mondi diversi la radioterapia è appunto una terapia radiante che viene utilizzata per moltissimi tumori la chemioterapia è un insieme di farmaci che sono i farmaci chemioterapici che vengono utilizzati con schemi specifici a seconda delle malattie e anche per il tumore della prostata nell'evoluzione eventuale della malattia uno dei passaggi è quello che è in terapia ok mi sembra chiaro che il falso mito che il cancro della prostata debba essere trattato solo chirurgicamente sia proprio un falso mito è un falso mito anche se la chirurgia è presente per il trattamento del tumore della prostata è la più diffusa in quali casi? allora beh innanzitutto deve decidere il paziente salvo in alcuni casi tornando al discorso di prima basso rischio, intermedio rischio alto rischio quando ci sono dei pazienti ad alto rischio con malattia localizzata cioè non presenza di metastasi al momento della diagnosi spesso viene consigliato il percorso chirurgico in previsione di un trattamento multimodale cioè cosa vuol dire? incomincio con la chirurgia sapendo che ho una buona probabilità di dover fare la radioterapia e anche altre soluzioni successive cioè prendo in considerazione tutte le opzioni terapeutiche mi spiego a disposizione quando io ho iniziato a fare questo mestiere 30 anni fa a tutti si faceva come per la mammella la chirurgia e la radioterapia poi si è capito che questo non era necessario la chirurgia e la radioterapia vengono accoppiati in casi selezionati i vantaggi della chirurgia riguardano il lungo tempo cioè se vai a controllare statisticamente i risultati oltre il settimo o ottavo anno un vantaggio sulla sopravvivenza per quanto riguarda i pazienti operati esiste per cui mediamente nel mondo paradossalmente nei soggetti che hanno una malattia o intermedia più il paziente è giovane quindi più ha aspettanza di vita lunga più si va verso la chirurgia mentre più il paziente anziano salvo casi eccezionali di malattia molto aggressiva più si va verso la radioterapia ok una domanda dottore la chirurgia la immaginiamo molto invasiva oggi ma non è così perché è mini invasiva anche perché siete supportati dalla robotica me la puoi spiegare come funziona l'intervento? la robotica il concetto è questo l'intervento prevede l'asportazione della prostata delle vescicole seminali che sono come due sono due piccoli contenitori posteriormente alla prostata viene tolta la prostata e la vescica viene riattaccata all'uretra cioè quel pezzo mancante viene ricostruito questo può essere fatto principalmente o facendo un taglio laparoteticumente oppure con il robot cioè il robot che cos'è? è una laparoscopia assistita ossia si fanno dei buchi esistono dei micro strumenti che collegati a una macchina molto sofisticata sostanzialmente riproducono le mani del chirurgo in miniatura infatti lei io so che sta separata dal tavolo operatorio c'è una console e si lavora in questo modo quindi è sempre il chirurgo che opera da questo robot che mima proprio le mani in miniatura del chirurgo gli occhi e le mani del chirurgo i buchi sono tre buchi sono quattro buchi quattro buchi nella pancia sono quattro buchi sì esistono diverse tecniche dai quattro ai sei buchi a seconda del tipo di approccio chirurgico e attraverso questi si lavora quali sono i vantaggi? qual è il vantaggio di una chirurgia robotica e non a cielo aperto? i vantaggi sono molteplici allora il primo vantaggio è che vi è un rischio di sanguinamenti intra e peri operatori che è circa 1 a 30 quindi il rischio di trasfusione o di reintervento è molto inferiore non è zero purtroppo qualcuno sanguina deve essere trasfuso qualcuno deve essere rioperato comunque però è molto più basso questo fa sì che vi siano degenze medie molto più brevi questo dal punto di vista proprio clinico dal punto di vista funzionale la robotica è stato visto che con lo sviluppo della robotica degli anni si è progressivamente fatto sì di risparmiare molto più gli organi vicini e poter ricostruire molto meglio le strutture locali che vengono tolte o alterate per l'intervento infatti proprio sull'intervento ci sono molti di merito soprattutto su quelle che sono le conseguenze post intervento cioè un po' una titubanza una di queste è sui problemi di erezione cioè problemi di erezione a seguito della prostatectomia radicale quindi della rimozione totale della prostata cosa ci può dire in merito? che è un argomento molto complesso allora i problemi di erezione avvengono per il trattamento della prostata sia con la chirurgia che con la radioterapia perché la prostata i nervi erigendi cioè quelli che determinano l'erezione sono come due fogli di domopac sostanzialmente appiccicati alla prostata quindi se togli la prostata hai l'elevato rischio di dover anche togliere i nervi erigenti in questo la robotica è molto vantaggiosa perché ti consente di risparmiarli ma i nervi possono essere risparmiati in casi selezionati dipende dal tipo di malattia, dalla sede, dall'età eccetera poi il rischio di problemi erettili è anche relativo all'età perché è ovvio che più si va avanti con l'età meno capacità erettili ci sono questo mediamente nella popolazione se vi è anche un trauma locale questo anticipa però paradossalmente con i farmaci a disposizione il problema erettile viene sempre bypassato bisogna avere pazienza, c'è una fase di recupero però si può recuperare proprio sul problema erettile torna ai sintomi il problema erettile può essere un sintomo del timore della prostata? molto raramente molto raramente può essere soltanto nelle forme molto avanzate è veramente raro quindi tranquillizziamoci su quello però in caso di intervento abbiamo comunque anche delle soluzioni proprio perché in Manitasse Mater Domini so che c'è anche un ambulatorio dedicato sì, noi abbiamo dedicato un ambulatorio sia per la ripresa della funzionalità erettile comunque tutti gli urologi gestiscono questa cosa in tutto il mondo però per alcuni pazienti che preferiscono essere seguiti proprio in un ambiente dedicato vi è questa possibilità come vi è un ambulatorio per il recupero dell'altra funzione che può essere alterata, indebolita che è quella della continenza urinaria e su questo dottore le chiedo cosa vuol dire continenza e incontinenza urinaria? ci sono vari tipi di incontinenza su quale si può? sì, allora esistono anche questo è un argomento in realtà molto più complesso esatto, il manitino accendiamo solamente allora la continenza urinaria per definizione è fare mingere quando uno vuole senza perdere l'urina sia gli uomini che le donne avanzando nell'età hanno problemi di incontinenza questo si sa ci può stare poi esiste un tipo di incontinenza che è quella definita da urgenza cioè arriva uno stimolo così forte impellente che io non riesco a trattenermi è quella che viene definita da sforzo, da stress cioè basta un colpo di tosse basta un movimento particolare che il rubinetto si apre e si perde esistono per entrambe questi tipi di incontinenza poi dei presidi terapeutici che vanno da una riabilitazione fisioterapica una ginnastica che non è molto dissimile da quella postpartum però più o meno è così esatto specifica oppure a dei farmaci oppure addirittura degli interventi chirurgici quindi la paura di incontinenza urinaria a seguito dell'intervento può essere reale? è reale? allora io devo essere molto sincero sempre meglio non essere né operati né radiotrattati va messo sul piatto della bilancia il rischio della salute che determina un tumore o altri tipi di malattie e il rischio chirurgico, radioterapico, farmaceutico quindi il rischio zero non esiste però se noi consideriamo 100 pazienti operati oggi 96-97 nelle statistiche mondiali hanno poi un recupero della continenza per quegli sfortunati tre o quattro ci sono poi degli altri presidi da mettere in atto come abbiamo detto c'è l'ambulatorio del pavimento pelvico che aiuta con una ginnastica mirata a rafforzare quella che è la muscolatura però proprio su questo proprio vista l'esigenza comunque quello che è la paura dei pazienti so che in OneTus Mater Domini avete studiato una tecnica mirata per il recupero della continenza urinaria precoce sì, allora diciamo che la ricerca chirurgica va in due ambiti la prima, come dicevo prima come accennavo prima è quella di cercare di togliere il meno possibile questo per tutti gli organi quindi preservare il più possibile le strutture naturali la seconda, e questo aiuta molti robot la seconda è quella di cercare di ricostruire i piani e le strutture anatomiche come se la prostata ci fosse ancora perché quando si toglie la prostata gli angoli tra vescica e uretra vengono modificati perché non c'è più un pezzo si disequilibria esatto, e questo interviene sulla ripresa della continenza allora le tecniche che abbiamo sviluppato noi che si chiamano sling cioè sollevamenti sostanzialmente consentono utilizzando delle strutture muscolari anatomiche cioè non inserendo qualcosa di diverso quindi il membrane della persona della persona vengono preservati dei muscoli specifici che vengono poi utilizzati per riposizionare quella zona nella zona anatomica e questo consente, ricostruendo poi intorno tutto quello che c'era prima di avere una percentuale di soggetti continenti nel primo periodo post-operatorio molto più alta rispetto a qualche anno fa purtroppo questo non è per tutti quindi bisognerà continuare a lavorare infatti questa tecnica viene eseguita durante la chirurgia robotica contestualmente quindi non è un secondo intervento ma contestualmente e il robot in questo cioè il grande vantaggio del robot oggi non solo per la prostata ma anche per altri tipi di interventi è che ti consente di fare delle cose che prima manualmente non riuscivi per motivi di spazio anche perché so che il robot ingrandisce il vostro campo chimico sì e ingrandisce perché vi è una telecamera che ti consente di arrivare a un millimetro da quello che devi vedere quindi lo vedi molto meglio ma ti consente anche di accedere essendo come delle penne che arrivano nelle zone in regioni anatomiche molto normalmente ostiche difficile come lo scavo pelvico che è in basso e quindi difficile da raggiungere con le mani quindi maggior precisione per andare incontro a quelle che sono le esigenze del paziente però adesso il dottore le chiedo il follow up quindi il post-operatorio quanti sono i giorni di esigenza e come funzionano i controlli? per quanto riguarda i giorni di esigenza medi sono 3 o 4 se tutto va bene se vi sono dei problemi ovviamente il tempo che serve per risolverli per quanto riguarda il follow up cioè i controlli che il paziente deve fare dopo le terapie dipende dal tipo di malattia mediamente noi in Europa siamo meno pedissequi rispetto ad esempio agli americani comunque i controlli prevedono il PSA e la visita ogni quanto? inizialmente ogni 3-6 mesi a seconda dei protocolli a cui uno si e a seconda dei casi ok poi poi progressivamente si diluiscono fino ad avere un controllo del PSA prima di 8 mesi poi annuale una visita ogni anno e mezzo ok quindi comunque visite e PSA vengono tenuti sotto controllo sempre tutta la vita ok dottore nei giorni precedenti abbiamo chiesto un po' ai nostri pazienti di farci alcune domande che avremmo approfondito con lei stasera inizio dalla prima come capire se la prostata si è ingrossata? e allora anche questo è un falso mito cioè non è è una volgarizzazione che hanno fatto gli urologi per spiegare una cosa non è che avere la prostata grossa vuol dire avere dei disturbi come non vuol dire avere la prostata piccola non vuol dire essere sani ok è un rapporto tra l'imbuto e il tappo ok me lo spieghi meglio allora quando si urina la vescica si comprime la prostata si apre come un imbuto ok quindi se io ho un imbuto che si apre in modo molto ampio anche se ho una prostata molto grande io sono perfettamente asintomatico ok se io ho un imbuto che si apre poco basta una prostata molto piccola per essere asintomatico è una volgarizzazione quindi noi operiamo prostate di 20 grammi quindi molto piccole come una castagna o prostate di anche 300-400 grammi quindi molto significativo come un melone ok altra domanda è mi sveglio molto spesso di notte per urinare è normale? no non è normale è uno dei sintomi? la nicturia può essere uno dei sintomi la nicturia vuol dire doversi alzare di notte più volte perché mentre pollaciuria vuol dire doverlo fare molto spesso di giorno questo può essere uno dei sintomi della prostata quindi di notte di giorno bisogna tenere d'occhio anche il periodo della giornata sì però mediamente un uomo lo capisce cioè se incomincia a urinare troppo spesso capisce che c'è qualcosa quindi visita specialistica e poi casomai si capisce interessarsi del problema però ecco la nicturia anche la polacturia possono anche essere l'espressione di altri problemi va bene tipo ad esempio chi di giorno è perfetto e di notte invece ha nicturia può avere o disturbi del sonno o problematiche di ridistribuzione dei liquidi quindi ad esempio cardiologiche renali eccetera altra domanda se si ha un tumore alla prostata occorre limitare l'attività sessuale no questo è un falso mito non c'è nessuna correlazione forse anche meglio andiamo avanti no la prostata è l'organo per ejaculare va usato e invece la prostatite che è un'infiammazione della prostata può evolvere in tumore della prostata no sono due cose completamente diverse una vuol dire un'irritazione che è dovuta allora la prostatite esistono diverse forme di prostatite quelle acute quelle croniche però comunque è un fatto infiammatorio della prostata il tumore della prostata è uno sviluppo neoplastico della prostata che come abbiamo detto è legato in primis alla familiarità e poi ad altri fattori di rischio ok ultime due domande bruciore durante la minzione da cosa può dipendere? molte cose conviene sempre farsi vedere e dirlo subito se è una cosa che di poco tempo va bene ma c'è una cosa che perdura informare il proprio medico di base di fiducia e poi eventualmente fare degli accertamenti ok come abbiamo detto prima le richiede il tumore della prostata influisce sulla funzione rettile? questo no ok sono in casi gravi abbiamo detto nelle forme molto avanzate sì perché vi è una distruzione locale però è veramente molto raro ok dottore io la ringrazio grazie a voi abbiamo fatto un po' un excursus su tutto quello che è il tema del tumore della prostata ma anche altre patologie nel caso vorreste rimanere informati sul nostro sito abbiamo una pagina dedicata al tumore della prostata intanto dottore la ringrazio grazie Francesca grazie a lei e auguro a tutti una buona serata a presto grazie a tutti